Buongiorno a tutti. Il 2020 si era presentato con i migliori auspici per il mondo della scuola, essendo state bandite procedure concorsuali straordinaria ed ordinaria che avrebbero consentito l'immissione al ruolo di un cospicuo numero di nuovi docenti. Tuttavia, come sappiamo, la situazione di emergenza sanitaria ha creato non pochi problemi anche su questo fronte. In particolare l'unico concorso che di fatto è partito, il concorso straordinario finalizzato all'immissione in ruolo nella scuola secondaria, dopo gli stop and go imposti appunto dalla situazione sanitaria, ha visto ultimate le prove scritte proprio a fine febbraio, dopo la sospensione dai primi di novembre fino al 14 febbraio e si attende la calendarizzazione delle prove scritte suppletive disposte dai provvedimenti cautelari concessi dalla giustizia amministrativa in favore degli aspiranti che non avevano potuto partecipare alle prove in quanto sottoposti a quarantena fiduciaria obbligatoria o affetti da Covid. Non sappiamo se la ripresa delle operazioni da parte delle commissioni consentirà un'accelerazione tale della procedura da permettere l'immissione in ruolo dei vincitori già dal prossimo primo settembre. Vedremo come andranno le cose. Si sono perse invece le tracce completamente del concorso straordinario finalizzato al conseguimento dell'abilitazione per il quale non è stato nemmeno emanato l'apposito decreto che avrebbe dovuto disciplinare in dettaglio le modalità della procedura stessa. Vedremo con il nuovo ministro se si sbloccherà anche questo aspetto. Per quanto riguarda invece il concorso ordinario di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, invece non si ha alcuna notizia ad oggi non essendo state nemmeno previste le date delle prove preselettive che sicuramente verranno imposte per molte delle classi di concorso alle quali si potrà partecipare con la procedura concorsuale. Vedremo se si avrà qualche notizia circa la calendarizzazione delle prove suppletive e sebbene in questo momento di fase emergenziale è molto complicato consentire uno svolgimento in presenza di queste prove. Il ministro Brunetta negli scorsi giorni ha manifestato la sua volontà di sbloccare questa situazione di impassa anche tramite l'adozione di apposite linee guida di concerto col CTS e vedremo come si evolverà la situazione. L'unica cosa certa al momento che è scaduto il termine del 30 luglio 2020 per la presentazione delle domande non è possibile la presentazione appunto di nuove richieste di partecipazione al concorso da parte ad esempio dei neolaureati tranne che dovesse intervenire un apposito intervento normativo per la riapertura dei termini ma al momento non è previsto nulla in tal senso. Vedremo. Arrivederci. Grazie a tutti.